Oggi siamo Tutte Blogger e sta nel Ristorante A Tutti Sapori e siamo qui con il duegno Gianluca De Angelis che ci vuole parlare di una iniziativa molto interessante, molto buona. In collaborazione con la Camera di Commercio Italiana e i restauratori italiani in Barcellona. Gianluca, esplicanos. Ciao a tutti, siamo un restaurante che fa parte del circuito dell'ospitalità italiana, che è un circuito che garantisce la qualità italiana nel mondo. Amatriciana, venire a comere un bucatino all'amatriciana qui nel nostro restaurante o in un altro restaurante italiano che fa parte del circuito dell'ospitalità italiana per che le persone che conoscere questo piatto possano donare due euro per il terremoto di Amatricia in Italia. Nel nostro piccolo grano di arena al amatriciano, diciamo, di Amatricia, dove nasce la verità amatriciana. E la pasta che sempre si suele abbinare è il bucatino. Due euro alla frutta roca italiana, per ogni amatriciana. E mentre tanto, noi doriamo il nostro grano e comiamo il nostro bucatino all'amatriciano. E vi insegniamo come la preparano qui nel nostro restaurante Gianluca. Diego, Armando e Maradona che ci preparano la pasta amatriciana. In diretta. In diretta. In diretta. In diretta. In diretta. In diretta. Venga. In diretta. Venga. Venga. Ama Amatriciana. Quando siamo tutti vlogger. Doviamo fare il terremoto in Italia. Buonissima. Hai che venire a provarla. a qui qui sapore